I maggiori avvenimenti e pensieri, ma i maggiori pensieri sono i più grandi avvenimenti, vengono compresi molto tardi. Le generazioni che sono loro contemporanee non vivono tali avvenimenti, vi passano accanto. Avviene qualcosa di simile nel regno degli astri. La luce delle stelle più lontane giunge agli uomini con grande ritardo e prima che essa sia giunta, l'uomo nega che lì vi siano stelle. Di quanti secoli ha bisogno uno spirito per essere compreso? Anche questa è una norma con la quale si crea una gerarchia e un'etichetta com'è necessario per spirito e stella.